La trasmissione stai trasmettendo dal vivo, stai trasmettendo dal vivo, cari amici ed amici, faccio questa trasmissione dal vivo. Franco Battiato, uno dei più grandi cantatori italiani, tentiamo di ristabilire la connessione instabile. Assieme a Lucio Dalla, uno dei miei pochi cantatori preferiti, è una notizia che forse non c'è il sereno, però che ci ramarica molto. Lucio Dalla, Battisti, Mogul, Franco Battiato, Vascorossi. E Franco Battiato se n'è andato. Il panorama della musica italiana è rimasto più povero. Siamo rimasti impoveriti dall'assenza di Franco Battiato. Poi qua non so perché, ma non so perché, ma non trovo la chat. Ogni tanto YouTube fa di questi cambiamenti. Ma non ce l'ha la chat, come mai? Dal vivo, e vabbè, ecco. Vediamo un po' di ristabilire la chat, perché vorrei fare questa chat con tutte e tutti voi. Invece dicevo, Franco Battiato è morto. Adesso vediamo di prendere la live dal vivo. Dopo dovrò cambiare la miniatura. La chat disabilitata per questo live stream. Non so perché, già ci ho avuto, ringrazio coloro i quali hanno già apprezzato la qualità di questa live. Poi mi sono bloccato nel computer. Ma ecco, Franco Battiato lascia un vuoto, un vuoto nel panorama musicale non soltanto italiano ma anche europeo. Visto che era famoso in tutto il mondo e rimarrà famoso in tutto il mondo. I problemi tecnici di questa live. Volevo filmarmi con la camera però ho detto no. Ho detto, faccio la live e qua mi risulta... E mettiamo... Oggi non sono particolarmente soddisfatto. Ecco qua. Oggi funziona un po' tutto male e quindi YouTube mi chiede se sono soddisfatto delle prestazioni e qua si blocca tutto. Come mai chat dissi abilitata per questo video? E non capisco. Indipendentemente dove risiedi, sei tenuto... Ma non è per... Anche l'hanno impostata per bambini la chat. No, 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 non è per bambini ma scusa. La qualità del video? Roma. Scusa, faccio partire una live e ci devo mettere le forze. Il contenuto non ha sponsorizzazioni. Ma vorrei vedere perché no, non posso fare il... Mi mettete di età? No, non è destinato ai bambini. Ma perché mi mettete che è destinato ai bambini? Sono pazzi. Allora, consenti la riposizione della chat da vivo? Ecco qua. Adesso andiamo al video. Vediamo delle modifiche. Ma vi rendete conto? Allora hanno postato questa live per bambini ma hanno fatto perdere del tempo prezioso. Sono da pazzi. Uno parte la live, io non ne faccio mai per bambini e è impostata per bambini. YouTube sempre peggio. Guarda è che anche Google Chrome non è che scherza. Adesso mettiamo... Ecco qua. Di solito credo del tempo a... Allora dicevo, Franco Battieto è morto, ha lasciato... Un'enorme assenza nel panorama musicale. Dio. Di solito? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti